e la difesa avversaria ha lo suo volto qui si lo hanno lasciato completamente libero e non trova la seconda rete ha siglato una doppietta grande giornata per questo giocatore bellissimo il tiro con un pizzico di fortuna la palla è finita in rete attenzione attenzione gol un gol facile facile con il portiere fuori da palla si è effettuato un'uscita un po' avventata e l'ha pagata cara grande opportunità prova se prende la portiere e sarà dunque corner per il Liverpool tira di testa palla sull'esterno del palo va di testa e il colpo di testa finisce fuori a presto 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 a presto